Siamo nella Chiesa? Apparteniamo alla Chiesa? Siamo battezzati? Siamo figli di Cristo? Abbiamo la stessa fede? Ebbene, chi appartiene a questa società che si chiama oggi il popolo di Dio, che si chiama la comunità cristiana, ebbene deve sapere che questa comunità è organizzata e non può vivere senza l'innervazione di una organizzazione precisa e potente che si chiama la gerarchia. Figlioli miei, quella gerarchia che vi sta parlando, quel vicario di Cristo che oggi è davanti a voi, vi dice questo, che non siamo fatti tanto per comandare, quanti per servire. Posso domandarvi, figlioli carissimi, questa grazia che voi certamente non mi rifiutate. Amate il Papa. Amate il Papa, perché senza alcun suo merito e senza certamente alcuna sua ricerca gli è capitata questa strana, singolare vocazione di rappresentare il nostro Signore. Non guardate a noi, guardate al Signore di cui rappresentiamo. Siamo al vostro servizio.